Prospettare una soluzione definitiva per la gestione dei rifiuti a Montesilvano entro il primo quadrimestre 2015. Questo l'obiettivo degli esponenti del gruppo Movimento 5 Stelle, presente all'interno del Consiglio del Comune, che ha chiesto la convocazione di un consiglio straordinario per la discussione dei problemi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani. In particolare, i pentastellati chiedono all'amministrazione se sia stata valutata con la necessaria attenzione e nell'esclusivo interesse pubblico l'evoluzione del contratto e del capitolato, la possibilità di interrogare la Corte dei Conti di eventuali anomalie contrattuali emerse nel nuovo contratto di gestione dei rifiuti solidi urbani, discutere pubblicamente le problematiche che i sindacati dei lavoratori della Tradeco, azienda che cura la raccolta rifiuti a Montesilvano, hanno sottoposto all'amministrazione in più incontri inerenti i pagamenti degli stipendi dei dipendenti. Un consiglio straordinario chiesto dopo le ripetute lettere di richiamo verso la Tradeco, come più volte il sindaco, ha tenuto a precisare, affermano i grillini, al fine di scoprire le presunte inadempienze che il Comune ha riscontrato, poiché nonostante i numerosi solleciti e le contestazioni inviate alla proprietà sul regolare pagamento delle fatture da parte dell'amministrazione comunale, la Tradeco non ha ancora provveduto all'erogazione di alcuni stipendi dei dipendenti. La novità di tale consiglio comunale, sostengono i grillini, sarà garantita dal fatto che hanno chiesto ed ottenuto la partecipazione al consiglio comunale con diritto di parola delle sigle sindacali dei dipendenti della Tradeco al fine di portare un valore aggiunto alla discussione attraverso le personali testimonianze. Grazie.